Buongiorno da FT Online, partenza neutrale per la borsa, abbiamo il Fuzzimib in sostanziale parità, i prezzi hanno completato un testaspalleri bassista, sono scesi già nelle solute venerdì al di sotto della base delle testaspalle, però si mantengono saldamente al di sopra della parte bassa del canale crescente che parte dai minimi di fine gennaio, quindi fino a che rimarremo al di sopra del supporto di area 24 e 250 le aspettative saranno in favore di un rimbalzo verso la linea mediana del canale, anche il DAX è in una situazione di sostanziale neutralità, vedete dopo il test settimana scorsa di questa trendline che parte dai massimi di novembre per appoggiarsi poi su quelli di gennaio, si è avviata una fase laterale, sostanzialmente fino a che saremo al di sotto di 15,250 c'è il rischio di un ritorno sui 15.000 punti, sopra 15,250 invece si potrebbe dichiarare ripresa la fase rialzista. Occhi puntati sul mercato americano, questo è il grafico del Nasdaq, ve l'ho fatto vedere, Nasdaq 100 ve l'ho fatto vedere più volte negli ultimi giorni per dirvi che sarà importante vedere se i prezzi riusciranno a lasciarsi alle spalle il lato alto di questo canale e ovviamente anche i massimi di febbraio. Venerdì è comparsa questa candela che è un tipico impiccato, vedete una candela simile era comparsa anche qui a metà marzo, spesso dopo l'impiccato si realizza una fase di ribasso così come dopo un martello che è la stessa tipologia di candela ma che compare dopo una fase ribassista si realizza invece un rialzo. La comparsa da candela dell'impiccato, dell'hanging man non è di per sé però sufficiente per parlare dell'avvio di una fase ribassista, infatti questa viene confermata solo in caso di violazione dei minimi della candela stessa, quindi solo sotto i minimi di venerdì ci sarà il rischio di assistere all'avvio di una fase calante per quello che riguarda il mercato americano. Prima di continuare volevo farvi notare che domani tra le 16 e le 17 sul sito ufinance.it ci sarà un mio intervento analisi intermarket e ciclo economico, vi potete registrare gratuitamente sul sito ufinance, vedete la registrazione gratuita, se andate sul calendario trovate l'appuntamento di domani e vi potete registrare gratuitamente per vederlo tra le 16 e le 17. Di cosa parliamo oggi? Per quello che riguarda gli utenti registrati a Patreon, quindi che ci supportano tramite Patreon, FTA online, andiamo a guardare il settore del risparmio gestito, ovvero dell'asset management dal momento che Goldman Sachs ha rivisto a rialzo i target price di Azimut, Banca Generali, Banca Mediolanum e Fineco Bank. Invece per quello che riguarda questa versione del video di libero accesso andremo a guardare a Diazorin che questa mattina è in forte rialzo, graficamente interessante, le motivazioni del rialzo le trovate sulla nostra newsletter alla quale potete accedere o come utenti del sito FTA online oppure anche come utenti Patreon tutte le mattine. Questa newsletter viene caricata, vedete c'è su Diazorin la spiegazione del rialzo a seguito dell'annuncio dell'acquisizione di Luminex per 1,8 miliardi di dollari. Nella newsletter ci sono tante componenti, oltre alla cronaca della seduta in corso ci sono anche dei riferimenti a un titolo che secondo noi è interessante e le tabelle dei migliori titoli e dei peggiori titoli tra i 100 più liquidi del mercato, oltre che le indicazioni di trading per i titoli del Futsi Mib, le indicazioni di trading per i titoli del Dow Jones Industrial, un portafoglio fatto in base all'analisi statistica che quindi è diverso dal portafoglio che trovate sul sito Megatrader, il portafoglio sul Futsi Mib dove ogni settimana diciamo quelle che sono secondo noi le percentuali da mantenere in un ipotetico portafoglio che contenga tutti e 40 i titoli del Futsi Mib, quindi se sottopesare o sovrappesare uno dei 40 titoli e poi una tabella riassuntiva di tutti i titoli principali del mercato italiano con le indicazioni di acquisto, stop loss e obiettivo. Quindi questa newsletter ritengo che sia molto interessante, vi ricordo che è riservata agli iscritti al sito FTA Online e agli utenti Patreon. Prima di passare all'analisi di Deasorium volevo toccare questo altro argomento, ovvero sia farvi vedere il grafico del Futsi Mib con in alto queste due curve che sono la media mobile esponenziale a 21 giorni dei titoli al ribasso sul mercato, quindi ogni giorno viene calcolato il numero totale di titoli al ribasso, cioè che hanno fatto registrare una chiusura inferiore alla chiusura precedente e la stessa cosa, questa in nero è la media mobile esponenziale a 21 giorni dei titoli al rialzo, ogni giorno vengono calcolati i titoli che hanno fatto registrare una chiusura superiore al giorno precedente. Vedete chiaramente che quando la linea rossa è al di sopra della linea nera siamo in una situazione sostanzialmente o di debolezza o di lateralità, ma quando le due curve si incrociano vuol dire che il rapporto di forza si inverte e quando la curva nera passa al di sopra della curva rossa vuol dire che siamo in una situazione invece di uptrend. L'ultima volta che c'è stato un incrocio rialzista è stato in corrispondenza di questa seduta, la seduta dell'8 di marzo, direi quindi con un ottimo timing, è stato il giorno in cui si è interrotta la fase laterale che durava da un paio di settimane. Le due curve si sono avvicinate senza incrociarsi qui durante la fase laterale che c'è stata nella parte terminale del mese di marzo e attualmente sono abbastanza lontane. Cosa volevo farvi notare quindi? Che anche se il Fuzzimib ha avviato una fase di ripiegamento arrivando vicino a questa trendline, per il momento la media dei titoli rialzo e la media dei titoli ribasso sono abbastanza lontani, quindi è difficile che si vadano a incrociare in tempi brevi, il che vorrebbe dire che per adesso la fase di ripiegamento del nostro indice può essere considerata come una fase correttiva. Vedete la media 21 giorni esponenziale sull'indice coincide con la linea di tendenza che sostiene il mercato, passano tutte e due intorno ai 24.280-90 punti, ma vista la distanza che c'è tra la linea dei titoli a rialzo e la linea dei titoli a ribasso, secondo me per il momento il rischio di assistere a una vera e propria inversione è abbastanza lontano, ovviamente se le due curve dovesse avvicinarsi ancora di più vorrebbe dire che questo rischio aumenta. Magari nei prossimi giorni, se mi ricordo, vi farò vedere qual è l'evoluzione di questo indicatore, perché così formato con le due curve possiamo vederlo come un indicatore, per capire quale sarà l'evoluzione del mercato. Adesso passiamo a Diasonia, abbiamo detto che questa mattina è un forte rialzo, siamo a 152 Euro circa, quindi siamo già in una fase di accelerazione rialzista, i prezzi si sono lasciati alle spalle, questo doppio minimo sostanzialmente hanno forse già anche toccato il target della figura, se andiamo a proiettare l'ampiezza della figura verso l'alto, vedete è già stato toccato dai massimi di oggi, che cosa potrebbe accadere adesso? Potrebbe esserci un'ulteriore estensione della correzione, se le quotazioni si confermeranno oggi in chiusura di seduta sopra l'area 150 e 25, ci sarà la possibilità di salire almeno fino all'area 159. Su Diasorin c'è una prospettiva di rimbalzo, ormai da un po' di sedute, come avete visto si è realizzata appunto questa figura a doppio minimo e quindi il rialzo di oggi ovviamente sorprende per la sua ampiezza, ma non sorprende per la sua direzione, nel senso che si erano già creati i presupposti per assistere a un tentativo di rimbalzo, ovviamente fino a che ci manterremo al di sotto del lato alto di questo canale ribassista che è ancora molto lontano, intorno ai 180 Euro. La fase di rialzo sarà da considerare solo correttiva, però ripeto, non è una sorpresa il fatto di vedere salire il titolo e quindi anche in un'ottica che non va solo sull'intraday, ma anche in un'ottica temporale un pochino più estesa, si possono avviare posizioni in acquisto con una buona prospettiva di andarla a chiudere positivamente. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero.